Ritorno alla piega degli ingenti nel territorio provinciale ennese. Sabato pomeriggio le fiamme hanno colpito alcune aree boschive nei pressi di Piazza Armerina. L'incendio è partito da zona Santa Caterina. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a Piazza Armerina incontrato a Bellia, a Pietra Persia per un incendio di vegetazione e a Barrafranca per un incendio di abitazione. Garantire il servizio nido ai genitori lavoratori, nonostante le difficoltà finanziarie di questo bilancio 2022, è stata una priorità per la mia amministrazione e lo resterà. Con queste parole il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro commenta le azioni messe in campo dalla sua amministrazione in tema di servizio nido. Con ragionevole certezza, spiega l'assessore alla pubblica istruzione Rosalinda Campanile, pensiamo di poter iniziare l'avvio del periodo estivo già nella settimana successiva alla prima di luglio. Sono state accolte lo scorso giovedì a Troina le spoglie dell'archeologo e docente universitario Giovanni Pettinato, morto a Roma nel 2011. La decisione è stata fortemente voluta dalla famiglia e dal comune. Dopo un momento commemorativo, la salma del professore Pettinato è stata tumulata nel cimitero cittadino, nella Cappella dei Cappuccini, che ospita altri illustri troinesi. Per l'occasione Sicilia Antica Enna ha realizzato tre pannelli illustrativi delle tappe principali della ricerca degli scavi condotti in oriente dall'archeologo troinese, che saranno donati alla core per metterli in esposizione permanente nei locali universitari. Un pulcino di falco ghebbi e quattro rondoni sono stati ritrovati e messi in salvo da alcuni cittadini che hanno contattato il WWF Sicilia Centrale per il loro recupero. E questo è il bilancio delle ultime settimane di attività dei volontari del WWF di Caltanissetta che si occupano di tutela della fauna selvatica. Ritorna quest'anno in scena Mythos Troina Festival, la seconda rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo che il comune di Troina, con l'impatrocino dell'Istituto Nazionale del Drama Antico, organizza in città dall'8 al 29 luglio. La Kermesse si svolgerà nella cornice naturale dell'arratura del villaggio Cristo Redentore dove entrano in scena quattro rappresentazioni. La raccolta differenziata nella cittadienna prevede per stasera il conferimento del secco residuo. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta della plastica e del secco residuo domani mattina, dell'umido e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it Per contattare la redazione scrivete a redazionechiocciolennalive.it Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it